Cioè perché veramente, un secondo qui, un secondo fa c'era di tutto qui, c'è cos'è che mi trova posto di qua, di là, la luce, l'immagine ed ecco già allestito di una velocità incredibile perché arriva Tiziana Lugli di Erbavoglio, un marchio ormai conosciuto a livello nazionale distribuito in tutta Italia e poi nella storica invece sede, punto vendita, che è quello di Corso Cavour. Esatto. Va bene, sì, adesso noi ogni volta proponiamo naturalmente un prodotto diverso per riuscire così a scoprire i tanti prodotti selezionati naturali, garantiti, che Erbavoglio vi propone e Tiziana ogni settimana. Quest'oggi, beh, torniamo a parlare dell'anticellulite, visto che ne abbiamo accennato la scorsa settimana, abbiamo visto l'integratore da prendere per bocca in capsule che aiuta proprio il metabolismo interno e il drenaggio di tutti i liquidi che dobbiamo eliminare perché ormai la cellulite sappiamo che è un ristagno di liquidi dannosi e quindi una depurazione dall'interno è sicuramente da fare. E poi abbiamo accennato alla linea fredda, visto che il caldo ormai è alle porte, è arrivato e ha colpito già, perché io già sento persone che hanno problemi di gambe, affaticate già adesso col primo caldo, tensioni, gonfiori eccetera e quindi giunge a proposito il fatto che noi abbiamo le calze raffreddanti per eliminare i gonfiori delle gambe, la pesantezza, il ristagno appunto di liquidi e per ridonare quella leggerezza e quella sensazione particolare che è un'esigenza soprattutto durante la stagione estiva. Quindi parliamo di queste calze che hanno delle caratteristiche, ecco ne ho portato appunto un paio per far vedere che sono calze in microfibra già imbevute di liquido, quindi già queste calze presentano il contenuto nella calza stessa e sono elastiche per cui la coscia, la gamba può essere chiaramente di varie misure, di varie taglie e questo liquido particolare perché è composto da vari oli essenziali, da vari estratti quali il mentolo, la canfora, l'eucabitolo, il rusco, si sente subito, questo addirittura una volta che lo respiriti apre tutte le vie e infatti dà questa sensazione piacevolissima. Quindi questa calza che grazie proprio a questi estratti e a queste sostanze che sono l'imbibizione della calza stessa fa sì che ci sia un'azione sui liquidi di ristagno, un drenaggio benefico di queste sostanze e soprattutto questa particolare efficacia data dal freddo, quindi da questa sensazione di freddo che aiuta chiaramente sia la circolazione linfatica che la circolazione stessa. Soprattutto, come dicevo prima, questi oli essenziali, il rusco che è una pianta caratteristica proprio per la circolazione come vasocostettrice e il melilotto che invece è una pianta che è specifica per la cellulite, quindi una pianta che viene usata proprio per la circolazione linfatica per favorire il drenaggio stesso della circolazione. Le calze sono molto pratiche perché si infilano, si lasciano 20 minuti in posa e poi si possono riutilizzare altre volte, ovviamente si lavano, si sciacquano e poi c'è una sostanza sempre liquida di ricambio da utilizzare le altre volte che vogliamo, almeno una volta alla settimana. Poi abbiamo della linea fredda, anche la crema da applicare tutti i giorni e il fango invece da fare un paio di volte alla settimana per ridurre i centimetri, quindi il fango che è sempre un fango particolarissimo perché a differenza degli altri fanghi che di solito sono scuri, questo è un fango bianco, quindi si può notare che è effettivamente differente. È una specie di crema più compatta, chiaramente perché la base di questo fango è caolino, quindi è una base argillosa, nella quale sono stati messi degli estratti, numerosissimi estratti, oli essenziali, piante di alta montagna che hanno un effetto sempre sfiammante, decongestionante. È un fango bianco, quindi non sporca, è molto pratico perché a differenza di altri fanghi va tenuto solo 15 minuti e questo è un vantaggio perché visto che c'è sempre molta fretta nel fare le cose, è sempre meno tempo di effettuare qualcosa. E poi si passerà un risciacquo? Allora, poi si avvolge con una pellicola, il domopac, tranquillamente, si lascia 15 minuti e dopo si risciacqua, chiaramente, con acqua tiepida. E rimane questa sensazione di freschezza molto, molto a lungo, quindi oltre ad avere un drenaggio, una riduzione di centimetri, perché la riduzione di centimetri è evidente già dalle prime applicazioni. Abbiamo anche un rassodamento dei tessuti, per cui soprattutto l'interno cosce e quando c'è un bisogno di avere un rassodamento, lo vediamo benissimo con questo utilizzo del fango. e chiaramente io consiglio il trattamento completo anche con la crema, quindi due volte al giorno, una volta al giorno se la cellulite è meno di lunga durata, quindi se l'abbiamo da meno tempo, anche una volta al giorno, però sempre il trattamento completo, quindi il fango due volte alla settimana, la crema tutti i giorni e almeno una volta alla settimana l'utilizzo delle calze. In questo modo noi abbiamo un trattamento completo che ci darà dei grossissimi risultati. E che possiamo fare tranquillamente a casa. Benissimo, tutti i giorni. Due volte alla settimana allora queste applicazioni di fango? Sì. Ecco, la crema ogni giorno e le calze. E l'utilizzo delle calze almeno una volta alla settimana. Poi chiaramente se le persone stanno tanto in piedi, lavorano, fanno una vita un po' impegnativa che esige di avere un drenaggio anche più volte, si possono fare anche due o tre volte alla settimana, nulla lo vieta. Per cui insomma questo è però almeno una volta alla settimana e questo benessere, questa sensazione di leggerezza è veramente importante. Ecco, una sensazione di freschezza, di leggerezza, limita il gonfiore che in questo periodo magari è alle estremità, cioè alle gambe purtroppo ne risentiamo un po' tutti. E poi il fatto che in questo è anche il periodo delle diete in cui uno cerca di mantenersi un pochino a dieta e magari c'è il rischio davvero di qualche cedimento. Se è anche rassodante possiamo ovviare anche a questo grave inconveniente. Esatto, perché il rassodamento è veramente una delle particolarità, dei risultati da raggiungere, soprattutto come dicevi giustamente tu, quando si cerca di eliminare della cellulite del grasso superfluo. Ecco, per cui anche in questo caso, perché sicuramente è il periodo, questo soprattutto, di una dieta, noi amiamo chiamarla educazione alimentare, ma comunque di determinate regole da seguire, che dovrebbero essere seguite sempre, però voglio dire, questo è il periodo di solito in cui si mette la testa a posto per quello che riguarda appunto l'alimentazione. Allora abbinarla con questi prodotti davvero per evitare quei danni che magari sono legati anche a una perdita di peso magari in breve tempo. Siamo quasi, siamo in chiusura purtroppo ormai. Allora, grazie Tiziana per il tuo intervento. Venerdì, nuovamente insieme alla stessa ora con altre proposte e ai nostri telespettatori. L'invito anche a telefonare, porre domande come hanno già fatto e noi le rivolgeremo, le passeremo alla nostra Tiziana. Erbavoglio, marchio ormai conosciuto, preferite naturalmente le erbolisterie che espongono questo marchio e ancora una volta vi ricordo lo storico punto vendita Corso Cavour a Brescia. Grazie, naturalmente, e un buon fine settimana. Grazie, intrettanto. Noi ci vediamo tra poco, naturalmente.